Questo è un messaggio per tutti gli angeli che combattono contro la pedofilia. Fratelli e sorelle, ciò che facciamo è un dovere che Anonymous porterà avanti senza interruzioni. Potranno arrestarci, chiudere i nostri account o censurare le nostre giuste proteste, ma non potranno mai distruggere un'idea, soprattutto per una causa come questa. Il mondo è pieno di perversione e male, una perversione ed un male che non si prendono nemmeno un giorno di pausa per commettere i loro crimini. Per questo motivo, come potremmo noi prenderci un periodo di pausa? La lotta per la giustizia, la verità, la libertà, l'uguaglianza, l'amore e la pace è sempre in costante mutamento e spesso risulta molto difficile poter aiutare. Soprattutto in una società che invece di supportarti, ti incrimina e ti scredita. Non tutti possono affrontare le lotte, ma il grande coraggio che hai per fare tutto questo, con coscienza, è sintomo di un grande potere ed un grande cuore. La giustizia e l'idea, non sono morte. Il tuo coraggio è una luce in un mondo buio. Resta forte. Resta sicuro. Uniti come uno, divisi da nessuno. Noi siamo Anonymous. Noi siamo Legione. Noi non perdoniamo. Noi non dimentichiamo. Aspettaci. Lo vi rispetto ma non 7384.